ehi toccano toccanelli toccanelli cos'è che tu sei questo? toccano è come i nas eh come era la stata della ripartana madonna come devi metterla in piedi ehi si in piedi così se cade mi si fa male chi è che? dove hai il beccato? è il signor maledetto c'è qui un pezzo di questa sul furgone ma che spettacolo queste le cavalcate sai che figuretta che fai si le hai spostate la mia si sposta da sola abbiamo visto da sola si spostava però devi usare quelle qui qui